Ecco, io ci presenterei le cose nella medicina estetica e due o tre modalità che faccio io nella medicina estetica per combinazione della radiofrequenza e chemical peeling e dopo mostrerò in chirurgia estetica l'armonizzazione della faccia con le ostotomie, l'hippo feeling, correzione della mandibule, angoli della mandibule, nasi, praticamente una armonizzazione della faccia delle persone che non sono soddisfatte con il suo tipo di armonia della faccia. Grazie a tutti.